ciao a tutti oggi prepareremo la salsa tartara il tempo di preparazione della ricetta è di cinque minuti circa gli ingredienti sono maionese cetrolini sott'aceto capperi erba cipollina prezzemolo e tuorli d'uovo sodi andiamo via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i cetrolini i capperi l'erba cipollina i tuorli d'uovo sodi e il prezzemolo ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 4 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere la maionese ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 4 la salsa tartare pronta trasferire in una ciotolina salsa tartara si conserva in frigo per 3 4 giorni grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti